Salve a tutti! Una delle fissazioni dei terrapiattisti è quella della curvatura della terra. Sono sicuro che queste state a mare non hanno fatto altro che guardare l'orizzonte per cercare di darsi ragione da soli sul fatto che l'orizzonte appaia perfettamente piatto, o forse ero io che non facevo altro che pensare ai terrapiattisti in spiaggia per non pensare al fatto che in costume da bagno sono impresentabile. Comunque, l'idea seconda cui anche dall'Everest l'orizzonte appaia piatto è che la curvatura non si veda da nessuna parte deriva da un errore illogico. Cercherò di spiegarvelo in modo molto semplice. Un tizio ha 15 anni. Il giorno dopo il suo compleanno ha 15 anni. Il giorno dopo ha sempre 15 anni. E così via. Ma questo non vale in eterno. 365 giorni dopo il suo quindicesimo compleanno ha 16 anni. Facciamo un esempio analogo. Lo stesso ragazzo se oggi ha 15 anni ed è considerato sicuramente giovane, dopo un anno è sempre considerato giovane, un anno dopo ancora è sempre giovane, eccetera ma in un punto indefinito della sua vita non possiamo certamente chiamarlo giovane. Per questo si parla di logica fazzi, cioè logica sfumata, che si occupa di situazioni come questa. Riguardo la curvatura, il discorso è analogo. Se al livello del mare l'orizzonte appare piatto, a 10 metri sul livello del mare appare piatto, a 10.000 metri sul livello del mare appare piatto, questo non vuol dire che a 30.000 metri sul livello del mare l'orizzonte appaia piatto. A circa 20.000 metri sul livello del mare si dovrebbe sicuramente vedere la curvatura, dipende da una serie di condizioni. Si tratta del doppio dell'altezza in cui volano gli aerei di linea, benché dai 10.000 metri in certe circostanze pare che sia visibile lo stesso. Stando alle testimonianze di paracadutisti o di gente che ha viaggiato in aereo ma di norma dovrebbe essere visibile dai 17.000 metri in su. Quindi è inutile guardare l'orizzonte aspettandosi che ci sia la curvatura, o che prendendo un bicchiere d'acqua esse debba curvare nel bicchiere, spero di essere stato chiaro. Alla prossima!